Ciao ragazzi, siamo gli studenti del liceo scientifico Aristotele e questa è la nostra scuola. Per imparare e sperimentare le nuove tecnologie e proiettarci nella società connessa. Abbiamo solide basi nella tradizione e non dimentichiamo ciò che rende unica la scuola italiana. Abbiamo uno spazio per coltivare le nostre passioni e i nostri interessi per il mondo della musica. Stai al passo con i tempi con la sezione 2.0 e crescere il futuro con la classe internazionale. Con impianti sportivi funzionali il divertimento è assicurato. C'è molto altro al liceo scientifico Aristotele. Vieni a scoprirlo in Roma 2 dall'8 al 12 novembre. Ciao! 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 Ciao!